Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi siamo in un video di ginnastica artistica come avrete potuto leggere dal titolo e proveremo a battere il nostro record dell'anno scorso che per chi si fosse perso il video vi lascio il link qua sotto in descrizione il mio record era di 31 ruote di fila e oggi proveremo a batterlo spero di riuscirci alla prima botta e adesso ci prepariamo un attimo Ok ragazzi, siamo pronti per fare un po' di riscaldamento consisterà semplicemente nell'allungare le gambe e stiamo qui più o meno 30 secondi e poi anche l'altra gamba sempre 30 secondi Ok, ora allunghiamo le braccia mettiamo bene e poi portiamo dei piccoli membri 30 secondi poi, un altro braccio Ok ragazzi, terzo esercizio consiste nell'allungare il quadricipite così da maglia di cortesia questa parte è data in avanti dovrete avere uno step o uno scalino per farlo e staremo 30 secondi per damba Buonasera Vedete sentire poi tutto tirare il quadricipite qua l'avanti Infatti questi piccoli esercizi siamo pronti per fare le ruote Vai! Conteremo ogni 5 e mi raccomando qua sotto nei commenti scrivetemi qual è il vostro record di ruote consecutive Ora vado 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 7 9 30 8 10 9 10 10 9 10 10 10 10 11 9 10 29 40 Sto stramato 40 Anche perché non sono più allenato Perché adesso faccio parkour Come sapete E là non facciamo le ruote Mentre prima si le facevo tantissime Mi prendo un attimo Poi adesso mi alzo Alla mia maniera però Ok ci siamo Bene ragazzi Spero che questo piccolo video Vi sia piaciuto Ti raccomando se fosse stato così Un bel pollicione in su Un bel commento qua sotto Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Condividete il video su facebook E sui vari social Dal vostro Lucas È tutto E ciao belli Bravo Luca Grazie Grande Grazie 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 Grazie